ed eccoci qui a una nuova parte di pokémon perla, allora andiamo avanti facciamo la via pittoria dovrei averci delle ecco fate dei repellenti avevo già attivo quell'altro ok facciamo la prima allenatrice in una lunga serie spero di farcela in una parte la via pittoria aspettate scusate non so se l'avete sentito non lo so e per sicurezza io ve lo ripeto speriamo di fare una parte una sola parte cani ecco la via pittoria solo in una parte perché è tele lama? perché non può fare un altro attacco? vero vero straw ghiaccio 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 e si ammazzata ciao ciao e' smuerto ora andiamo a vedere questo paolo che non serve a niente la cura ok al scusate ok scusate scusate di nuovo allora se riesco a partire e camminare e si va qua ecco sgarrasso perfetto andiamo avanti così ok matrimonciato questa natura non ce la farò mai me lo sento ah bene un out mi piace questa cosa ciao e' jangar aiaia muori morto vabbè cerchiamo di ucciderlo l'abbiamo ucciso e sarà il 42 perfetto allora e' finito l'effetto lente non se ne usa un altro se prendere se prende la pokeball che ci sarà dimenticati che attaccalite oioioio se non ce l'avevo mi disperavo risaliamo su ok ok ora andiamo di qua senza di nuovo cascare senza di nuovo cascare perfetto una veterana no c'è una lotta e' il suo no fantasma gold 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 no niente cambiamo no accident come good bye blissy si manda a Staraptor e fra po' il 48 allora e si dovrebbe uccidere ciao blissy Staraptor al 48 e la terza se è battuta se non anche qui no e si va su allora cavolo lo spaccaroccio si insegna pop 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 un mio quanti io tolgo spaccaro c'è cazzo che che mossa c'hai no scusate ora guardo che imparavi vabbè su allora andiamo ho insegnato a bonus no tanto voglio insegno terremoto quindi l'importante è ora andare alla liga ok allora qui questa si sposta un po' indietro e se no ci si mette la bici vabbè su si farà due come tanto qua cavolo non l'ho fatto bene allora qui sono dietro questo qui ehm bene rapida si può ammazzare tranquillamente con ciao perfetto meglio con il pokemon allora allora lui manchamento ma non prendo nulla perchè ahah cosa fuoco imparasse lancia fiamme sarebbe una bella cosa vabbè rampardos s ciao ciao ma tutto questo fantasma allora ora prima allora dovrebbe essere così poi così e così infatti ok ora qui si spaccaroccia sii ma spaccarocciamo e battiamo questa fanta allenatrice al vederci vederci il super 4 ok un cliffable un cliffable che servirebbe in queste occasioni ehm come si chiama no non viene a mente con regalino non ho proprio neanche una super pozione non c'è niente torterra 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 l'uomo ruota a fuoco ora gli fa una cipa lipa neanche a noi proviamo a fargli pugno rapido ecco fa di più allora noi gli si fa zuffa che fa sintesimi in mazzo ok ora diciamo un bel pugno rapido ok morto ma poi sarà del 51 eh oh come si fa andare eh sì mettiamo questo qui qui ci si sorrirà dopo no start up what's up surf grafico ciao Muori Perfetto Poton Allora il poton E' un po' non c'è neanche Dobbiamo mettere lui Come sullegno Eh si è terremoto vabbè Dettagli Eccoci Ah Stavo dicendo ma Che viveva o Ciao Lala Un po' al 50 anche bonus no Ok se noi facciamo così Che si va giù E poi si torna su Che lo siamo arrivati a alto E si fa qua Si va di là Oh le Ah che geni che siamo Infatti Poi si fa così Perché non si può fare altrimenti No Cado Mi voglio Vabbè Vabbè Poi senti qua Eh Ora io non sto Psegarvi tutto Allora Esplorando il corpo umano Infatti bisogna andare lì Oh no No che stavo scherzando io Perché ho finito Repellente andando in su in giù Ok allora Andiamo qua E si fa E portata E si fa Repellente Max E si fa E si fa Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Ed eccoci Furioso Ok Vabbiamo su questo qui Karate Giù Ma non sa che ci faccio farlo Allora 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 Il po' diaccio Allora Sì Allora Si mette Staraptor Ciao Allora 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 Tutore Per non è una cosa un po' lunga ciao ciao mettiamo questo psiche cinque parla ombra dovremmo uccidere devo segnare anche a nero pulsa nero pulsa salgo tanto di vincita nero pulsa è molto più forte ok nero pulsa è morto noi abbiamo avuto su Emily psiche ciao psiche la 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 allora si può andare di qua che invece c'è questo qui che va in su in giù o qua che stiamo a cascata facciamo a cascata solo per prendere la Powerful rago pulsa è buono buono non ci piace ok ok mettiamo quest'allenatore arriviamo lì e poi si stoppa la parte sicuramente andrò a curarmi pokemon da madre cavolo c'è morto quello di tipo fa un culo si coraggio altro non signora anche psichico infatti il signora psichico furia ci sta uccidendo no ci ha ucciso si può dire si può ma fallisce infatti figlio la psicota per la è di tipo il anche tipo terra quindi zuffa li dovrebbe fare eccoci ma c'è il coso vabbè cazzo fungerate 51 no no questo è pokeball affilarti e stacco qui la parte tanto ci si riprende subito dopo ciao